Ok, dopo 300.000 tentativi si riesce forse a registrare. Allora, sono Bounty, benvenuti a tutti. Questa è Gamer Centipide, stiamo giocando Jade Empire e arriviamo dopo Smoyce, se non sbaglio. Allora, intanto li vediamo. Allora, eccola qui, la manina, corpo 11, tutte le scelte che sono state fatte io non le ho seguite, quindi mi trovo a... a dover avere a che fare con tutto quello che hanno fatto gli altri. Per me la cosa più importante rimane questa qui, la mente, quindi ci mettiamo tutto. Abbiamo un punto, però qua, per ora non ci serve. Usciamo e continuiamo con la nostra storia già, bambina. Ok. 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 La madre Kwan is trying to make this place respectable again, you can't stay here. Go close the dam. No, I'm sorry, Yan Juan. Let me, let me buy you a drink. Two bowls of wine and we'll drink a toast to a better time. Thank you for the afternoon. Just add it to my dam. I'm good for it. Ru, I don't have time for this. I have other customers to take care of. You have to leave now. No, I'm really pretty sure I have to drink now. I have the bottle of wine too. So I can go close the dam. Yeah, just another drink or two or three or maybe four. More wine? Okay. I'm worried about you. You will? Thank the Emperor. I've lots of other work to do. Uh, and who are you? More importantly, do you have any wine handy? Uh, can you get some? Yes, yes, I have the wine. Come, come. Ginzy, the splendid. My, my help? Nobody asked for my help. They don't even trust me enough to ride on my barge. But I'm not some useless old drunk. I'll show them. That's why I volunteered to go close the great dam. Just need a drink or two to get my courage up first. You can't be serious. True, my barge is the only way to get there. But the pirates are dangerous. Believe me. You don't want to go up there. Have some wine instead. No. No. Allora, mi hanno detto che sei abbastanza coraggioso da portarmi. Non sei abbastanza coraggioso. Non pensavo che sia gioco l'arpa. Eh. Mad is what I am. A real lune. Especially when I've had my fill of wine. Like now. Truth is. I'd be happy to take you up to the pirates camp. If I didn't have more pressing business. I promise to close the dam and save the tower. Truth is. I wish I'd never told anyone what I was going to do. I was a bit drunk when I said it. But I can't back out now. Oh, ho cliccato male. Ok. Ok. Oh si, minacciamolo un po'. Now, now. No need to get upset. I'm drunk, but I'm not unreasonable. If you really want to go that badly, I'll take you. You can work out some of that anger on the pirates. I'll make my way down to the little dock where I have my barge and get everything ready. Just meet me at Beggars Pier in the southeast corner of town when you're ready to go. Ok. Ok. Good, good. I've got lots to do before we go. Check the barge, check our supplies, sample the wine. You never want to travel with bad wine. Remember, meet me at Beggars Pier in the... Ok. Can't you just leave an old man in peace? Sorry, it doesn't count for much. Nothing. Just, just leave me alone. Eh, lasciamo le pace il vecchio, poverino. Eh, direi che ce ne possiamo tornare giù. Andiamo a trovare l'ubriacone. Eh, poi ce ne andiamo dai pirate. Praise the Emperor, old mother... Andiamo a trovare l'ubriacone. Handlots first. But... ... 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 e your move old goat Ah, è quello qui, l'obriacone. Portami dai piratati via. Sì. Quindi niente dolce. Mai. Molto bene. Allora, io uso il mio padel. Buona luck to you in there. E se hai bisogno di lasciare in una riuscita, vieni a riuscire. Eccolo lì, uno lavora e tre cazze di geno di parella. Molto bene, ii non vedi voi che era il più di lui. E' un po' di attraverso. E' un po' di attraverso. È un po' di attraverso. Voi, ii fratelli dentro ha fatto me cuciare i loro bologni. E' venuto come finito, ma in mia pace ho tritato e ho di spesso. E' un po' di attraverso. E' un po' di attraverso. E' un po' di attraverso. Sì, non lo so, non lo so. Questa è un po' di tempo. Puoi andare in un po' di nuovo? Scusate! Scusate! Non mi perdite! Poi prendere il vino e un po' di carne. Poi scappare! ahahah mi ha scappato ok qui sono dei pari che coppiti che ha non posso credere come che ho sfinito fosse un fragello dei mari chi sei? i fatti professionisti come come? eh che grande scappa no sarà meglio che ti uccida no come pensi di diventare i fatti professionisti sull'intervento i fatti professionisti ma sono troppo sbagliati per finire il lavoro hanno lasciato un canone sospendato sull'intervento supportato da questa singola ropa un pochino pulso e questo canone comincia a rinforzare prendendo il canone e nessuno sull'intervento ma i miei occhi non puoi pulire troppo sull'intervento per rinforzare i fatti e la ropa poveraccio è quello l'unico che lavorava poverino dove va? infortunio sul lavoro saldiamo l'unico che lavora via ecco l'unico non mi piace per fare scappare attrappare 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 grazie Non lo vanno ancora visto. Sono... sono morti! Non ho bisogno di prendere il dottore! Mi ha salvato! Ma c'è più pirati dentro, molti più! Oltre a te sottotitoli, e tu sei un sottotitolo, come il resto di noi. Oltre a te sottotitoli. Questa sottotitola sta sottotitoli con pirati. Oltre a te sottotitoli. Oltre a te sottotitoli. Ma non vanno ancora a me. Mi sapevo dove scendere. Mi cosa c'è? Ah, assolutamente... Cosa dice Piano? Ha! Esci pirati non sembra di dare a te molto problemi. Poi, nel mio giorno, un pirato sapeva come combattere. Ma questi ragazzi sono sottotitoli e sottotitoli. Kao ha bruciato tutto. Ho cercato di raccontare, ma nessuno ha ascoltato. Voi pensi che i assassini di Lotus sarebbero una notizia. Anche un pirato sapeva meglio di essere sottotitoli con loro. Andiamo avanti, via. Vediamo troppo tempo. Andiamo a vedere un po' di... Un po' di come atti metti i assassini qui. Uuuuh, non è giusto niente. Si, ci 구fori giusto. Noi si, non è giusto! Uuuuh, non è giusto! Un po' di come atti metti i assassini. Iniziamo a vedere, secondo te che, Cosa, un po' di come atti non è giusto? Un po' di come atti metti i assassini. Un po' di come atti, Oh Oh Spirit thief Oh You aren't equal to me Yeah 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 Oh 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 La storia del volo La prima persona che cercò di volare fu un certo Chao Xiong Un giovane erudito originario del Prospero Oriente Le sue idee erano ingegnose ma difficilmente attuabili Chao Xiong morì per Maturamente dopo aver legato a diversi contenitori di polvere del drago Una sede di bambù e venire E avevi dato fuoco All'inizio sembrava fosse sopravvissuta Quell'esperimento ma sono in pochi Credere che qualcuna possa scampare un'esplosione del genere La sua morte tuttavia Non fu completamente vana Diverse dei suoi scritti vennero studiate dagli eruditi E alcune delle sue intuizioni vennero adattate Con il successo per i primi voli umani Praticamente Un Leonardo orientale Incarichiamoci un po' A cercare di trovarci da dire con qualcuno Mi immagino che qua Ci siamo firmati no? Un uff Un uff Non volvi Un uff Un uff Lo Un uff Un uff ha liberato i scambi! ti pagherai per questo, maggot! maggot! ehm, non lo so! se tu scum hai nessun senso di tutto ti resti in un'altra parte lasciami andare a guadagnare sull'uomo e vorrei saperti che ti vedo oh, sicuramente! andremo a sentire e dovresti andare sull'uomo per uccidere il nostro leader potrebbe aiutare se ti prendi una piazza sull'uomo? o che non conosco o che non conosco o che non conosco ma non conosco perché c'è sempre il coglione di turno? oddio, è sparito l'audio che è successo? è trattata ok non ti vedo il mio partner qui ci guarda? non ti lascia la grazia e la belle te scuola è morta è morta è la tua ultima chance di fuori di qui vivere quindi il città ha un amico questo significa che non ti mori solo attacchiamo! attacchiamo! ok stop! stop! tutto ok non ti cattolo è non ti va possiamo innanzitutto non ti va e non essere Grazie a tutti 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 È decisamente astuto La porta deve essere operata while the lever is held forward There used to be a sentry up there who handled that kind of thing but he had an accident Povero I had to perseguire I had to perseguire, sono giro che tu abituai, dato che siamo entrambe molto impegnati, perché non vai subito la porta? Se mi tradirei ti ucciderò No, never fear, there are people I mean to harm, but you are not one of them I should go now, but I have to ask in case we never meet again, where did you study? I have done two of them, I have done two of them, but I have done two of them Oh, I'm sorry, I didn't mean to overstep the bounds of our relationship I simply had to ask, your technique is like nothing I've ever seen before Molto gentile Ho già sentito questo genere in passato, questo genere è tutto strano Deve essere bizzorre il modo in cui sono stato addestrato Forse non hai visto una guerra addestrata Una guerra addestrata come si deve L'audio è sparito Non ho visto nessuno eguagliare il tuo stile di combattimento È scaltro, ma i tuoi movimenti inducono il nemico a intravedere uno spiraglio che non c'è È una sorta di ingegnosa trappola Scusa, sto perdendo del tempo precioso per entrambi Sarò pronto e tirerò la leva quando sarai vicino alla porta Buona fortuna Qualunque sia il motivo che ti ha spinto in questo posto Dove cavolo è sta leva? Ah, ancora l'audio sono andato Ti ho visto la pro di Tienzno Yifong Ti riguarda di me e mia figlia ce ne siamo andate a Rasetal per tentare la fortuna nella regione selvaggia Io non le ho incontrate però Qualcuno si Come si definite qui? Ah, te applaudi Devi trovare fao Va bene Ok, 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 ok Ok, vuol dire che ci sia il nostro posto Massimo è risultato Quindi la leva è lì E la porta è lì E dov'è il nostro amico? Scemmio? Buonasera Scemmio! E' comparso sulla piattaforma! E adesso non c'è più! Immagino il gioco! Ok, direi che c'è da combattere Lui... Si è già andato per i fatti suoi e quindi noi andiamo... A combattere siamo loro! Cosa prende il gioco? Oh mio! E lascia stare! Cosa prende il gioco? 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 Cosa prende? Cosa prende il gioco? Cosa prende il gioco? e poi si ha messo il call timer mancano due minuti alla prima metà d'ora che è veloce veloce scimmia 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 Sì, è vero. Non ho chiesto a Gau per te un'escrizioni di Gau? Signore, Gau'vi sono solo un'escrizioni di Gau. Si sono buono per passaggiarci e vittime, ma non per passaggiarci. C'è l'escrizione che non ho avuto ancora. Non provo a prendere i miei, Lim. Ho avuto tutto ciò che ho prometto. È solo un po' di tempo, fino a che ho finito l'escrizione speciale Dragonfly per trasportare l'artifacto in la città imperiale. Sì, fino a che finito? Ma che bello che è! Sì, con un binocchio, ci sono talmente poche che c'è un binocchio. Ho passato con gli occhiali. È il capo quella lì. Questo non è necessario, signore. Ciò mi raccoglieremo, e tornare alla città imperiale in un giorno. C'è un po' di tempo. C'è un po' di tempo. C'è un po' di tempo. è morto. Non! Questo non può essere! Cosa! Cosa! Mi raccoglieremo la verità. È sembra che il tuo figlio non era un po' di altri studenti. Con la condizione del corpo, sembrava che ha morto abbastanza doloroso. Non! La ragazza figlia era tutto per me. Tu e il tuo cuore, Lim. Tu! Tu! No! Se l'accusa. Se l'accusa It takes to get that ship built I will take a short range flyer And check on some of our other operations in the area If the marvelous dragonfly Is not ready to launch when I return Those captive demons Will have a new playmate Interruptions! Who designed that dragonfly To build something to make his sandals explode? ok la prima mezz'ora è finita mettiamo in pausa e ci rivediamo per la prossima mezz'ora